Sia i maxischermo in città ma con posti a sedere e distanziamento. In vista della finale degli europei a Pescara il prefetto ha predisposto un rafforzamento dei controlli in centro città per evitare pericolosi assembramenti. Ne ha parlato questa mattina il questore del capoluogo adriatico Luigi Liguori a margine della presentazione di due e-bike che verranno utilizzate per i controlli della polizia di prossimità a Pescara. Per quanto riguarda la finale di domani sono stati già svolti diversi tavoli tecnici, c'è stata anche una riunione tecnica di coordinamento tenuta dal signor prefetto ieri in cui sono intervenute tutte le forze di polizia. Nel nostro capoluogo si è fatta la scelta di continuare a mantenere anche i maxischermi, ce ne sono due. Noi ci siamo battuti affinché ci fossero i posti a sedere e non i posti in piedi, affinché ci fosse il distanziamento e affinché fosse mantenuto un certo limite di persone. Abbiamo predisposto un servizio particolarmente accurato e speriamo efficiente affinché i possibili eventuali ed auspicati festeggiamenti si svolgano alla massima sicurezza. Ci sono diverse diecine di operatori delle tre forze di polizia che sulla fascia dalle 20 fino alle 4 del mattino saranno a fianco ai cittadini sperando che vadano a festeggiare e non si verificano episodi di intolleranza o di teppismo come si è assistiti in altri luoghi. Noi siamo molto contenti che la città invece abbia mantenuto un profilo e un contegno particolarmente civile. E così da oggi poliziotti sulle due ruote elettriche per essere ancora più vicini ai cittadini. Il servizio ci sarà nei mesi di luglio, agosto e settembre. È un servizio che abbiamo voluto e pensato e organizzato e siamo contenti di averlo messo in campo da questa mattina. Avremo la polizia di prossimità sempre più presente, avremo degli operatori che saranno a fianco dei nostri cittadini e dei nostri commercianti per le strade del nostro capoluogo cercando di aumentare il livello di sicurezza. Il servizio si svolgerà sulla fascia dalle 8 alle 20, dalle 8 del mattino fino alle 20. Al momento ci sono sei agenti che sono stati destinati a questo scopo, che sono stati prelevati da uffici diversi dall'ufficio volante, per dirlo in maniera semplice ai cittadini, per non sottrarre il servizio volante già esistente. Quindi è un servizio aggiuntivo, è un servizio che opera in sinergia con gli altri servizi sul territorio perché siamo fermamente convinti che il presidio quasi statico sul territorio sia necessario sia per vedere meglio, sia per essere meglio contattati dall'utenza e dai cittadini per risolvere le problematiche sempre connesse alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica prevalentemente.